Grazie a tutti. I scolastici della Campania, il governatore De Luca pronto a fermare l'ordinanza per sospendere le elezioni. De Magistris lo attacca. In preallarme i comitati Nodad pronti a ricorso al TAR. Covid nei penitenziari, muore un altro agente. Secondo decesso nel carcere di Carinola, il garante Ciambrillo protesta subito i vaccini per agenti e detenuti. Contagi in salita sul territorio regionale, ormai saturi gli ospedali Cardarelli e Cotugno. Parlamento Minniti lascia il vice sindaco di Salerno. L'ex ministro dell'interno del governo Gentiloni si dimette da deputato del PD. Era stato eletto nel collegio proporzionale di Salerno. Al suo posto entrerà Eva Vossa, l'attuale vice del primo cittadino Enzo Napoli. Covid nel Sanni, ok ai vaccini nelle scuole. Sono almeno 300 tra professore e personale scolastico che oggi saranno immunizzati a Benevento. Per la prima volta dosi somministrate anche in un'antica scuola della città. Intanto ancora una vittima al Sampio. Solo fra tutti in piazza per salvare l'ospedale. Un flash mob per chiedere di salvare l'Andolfi da ieri tornato presidio Covid. Stamane la protesta che ha coinvolto sindacati, dipendenti e il comitato locale. Intanto troppi casi a Mercogliano. Il sindaco D'Alessio avverte. Basta feste private. Un carro cerimoniale. L'ultima sorpresa a Pompei. Il ritrovamento unico nella villa che era stata già visitata dai tombaroli. La gioia del ministro Franceschini. Scoperta straordinaria di grande valore scientifico. Ora tocca al nuovo direttore Zuck Trigel valorizzare questi reperti. Buongiorno. In apertura l'emergenza coronavirus. Nel solo mese di febbraio i contagi nelle scuole della Campania sono cresciuti del 55%. Complice la variante inglese anche per questo De Luca. Annunciato da lunedì lo stop all'elezione in presenza. Ma il provvedimento scatena la rabbia del coordinamento. No DAD. Sentiamo. Immancabili come ogni provvedimento che riguarda la scuola. In Campania è scoppiata la polemica sull'annuncio del presidente della regione Vincenzo De Luca di chiudere le classi da lunedì. I genitori No DAD hanno preannunciato battaglia ed un nuovo ricorso al TAR. Il coordinamento scuole aperte attende di leggere l'ordinanza che arriverà dopo il passaggio formale in unità di crisi. Per poi impugnare il provvedimento dinanzi ai giudici amministrativi. De Luca sta uccidendo l'istruzione. Il grido di battaglia di chi chiede di tenere le elezioni in presenza. Il governatore ha messo in conto i ricorsi ma teme per la salute degli studenti. Nel solo mese di febbraio in Campania i positivi in classe sono aumentati del 55% con tantissimi sindaci che hanno già fermato le elezioni. Abbiamo registrato in queste ore, in particolare nelle scuole di Napoli, la presenza di variante inglese. Credo abbiamo registrato sui positivi almeno sei casi di variante inglese. Non credo che dobbiamo aspettare che ci sia una epidemia diffusa di covid anche fra i ragazzi di 10, 15, 18 anni. Non solo il coordinamento NODAD, dure critiche a De Luca sono arrivate anche da Luigi De Magistris. La Campania è la regione d'Europa con il minor numero di giorni fatti a scuola in presenza. È una sconfitta della regione. Le parole riferite a Radio Kis Kis dal sindaco di Napoli che poi ha rincarato la dose. Le chiusure le deve decidere lo Stato. Finiamola con i giochi politici sulla pelle dei ragazzi. Risale la curva dei contagi in Campania. Gli ospedali vanno in affanno con le terapie intensive piene. Intanto scoppia un focolaio nel carcere di Secondigliano. Muore un agente di 50 anni e Ciambriello, il garante dei detenuti della Campania, lancia un appello per le vaccinazioni nelle carceri. Sentiamo. Ormai i casi covid sono allarmanti in tutta la regione Campania. Quello che più preoccupa sono gli ospedali. Il Cardarelli torna pieno di casi covid e la disponibilità delle terapie intensive è ridotta al lumicino. Dopo settimane in cui il Cotugno ha drenato decine di malati dal pronto soccorso dell'ospedale, ora in aiuto della più grande emergency della città, giungono i covid center dell'Asl di Napoli, dove saranno trasferiti ogni giorno tramite il 118 i pazienti in overbooking del Cardarelli. Intanto il covid continua a uccidere. Si registra un secondo decesso nel carcere di Carinola, in provincia di Caserta, dove da qualche settimana è esploso un focolaio. Si tratta di un agente di polizia penitenziaria di 50 anni, padre di due figli e morto nell'ospedale di Maddaloni. È il quarto in Campania, così come sono quattro i detenuti morti per covid, il medico sanitario di Secondigliano. Il virus è entrato da mesi dietro le sbarre e la sua avanzata non pare arrestarsi. A quando i vaccini per gli agenti e detenuti, dice Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania, commentando la vicenda. Chiedo alle autorità sanitarie Campania, al provveditore dell'amministrazione penitenziaria, di avviare al più presto la vaccinazione nelle strutture chiuse del carcere, sia per gli agenti che per i detenuti che ne facciano richiesta, visto l'elevato stato di promiscuità e di rischio. Intanto, ieri i casi in Campania erano 2.519, un ulteriore balzo in avanti per la curva dei contagi in Campania, dove il tasso di incidenza dei positivi è arrivato all'11,23%. Esasperati i ristoratori campani dalle restrizioni della zona arancione, ieri la protesta sul lungomare di Napoli. Il giorno dopo la rabbia non si placa. Ai microfoni di 8 Channel, gli esercenti hanno detto di aspettarsi al nuovo governo. Risposte chiare. Sentiamo. Rabbia e frustrazione tra i ristoratori campani all'indomani della protesta di ieri a Napoli, che ha bloccato il traffico sul lungomare dopo due ore di presidio sotto la sede della regione. Le nuove restrizioni da zona arancione creano grandi disagi e malcontento. Ai microfoni di 8 Channel, gli esercenti chiedono chiarezza e ristori concreti. Stiamo cercando di sopravvivere con le nostre forze. Abbiamo avuto sussidi, non abbiamo avuto nessun imborso perché è un'attività giovane, quindi non avendo uno storico alle spalle non ci è toccato niente fino ad ora. Viviamo ormai alla giornata, non abbiamo più una continuità. Facciamo miracoli, teniamo l'attività aperta giusto per una questione di cuore. Se dovessimo ragionare con la testa dovremmo chiudere subito. Il nostro obiettivo è quello di avere almeno dei tempi abbastanza certi, di non stare ad aprire e chiudere perché non serve a niente e ha delle grosse difficoltà chiaramente per la normale quotidianità del locale. E intanto in queste ore si paventa anche l'ipotesi che la campagna possa passare da zona arancione a zona rossa. Vediamo proprio questa idea come viene presa dai ristoratori. Ben vengono a chiuderci, se bisogna chiuderci, ma se bisogna chiuderci. E' un anno che praticamente stiamo perdendo sempre, rimettendoci anche quello che non abbiamo. Se questo deve servire a debellare il problema, ben venga. Però alla base ci devono essere degli aiuti importanti per tutte le categorie. Ed ora la cronaca è ancora in gravi condizioni. Nel cinquantenne è figlio di uno delle due vittime dell'incendio di fuori grotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Il ruogo si è sviluppato in un appartamento al quinto piano di un edificio in via Luigi Mercantini. Sul posto sono arrivate i vigili del fuoco che sono riusciti a entrare nell'appartamento dove purtroppo hanno trovato i corpi senza vita dei due anziani, Mario e Anna. Un fratello e sorella di 93 e 72 anni, intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato appunto il figlio del 93 anni in ospedale. Invece le forze dell'ordine hanno avviato le indagini, ma pare che da una prima ricostruzione il ruogo sarebbe stato generato da una stufa elettrica accesa. Una serie di lievi scosse di terremoto sono state registrate durante la notte nel Sannio dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro nel territorio del comune di Morcone e magnitudo compresa da il 2.1 e 2.5. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. Via i murales celebrativi dei criminali dura posizione della Commissione regionale antica morra ma il TAR ferma la rimozione del dipinto di Ugo Russo oggi Sittin in via Toledo. Sentiamo. Il murale di Ugo Russo non si tocca. Lo ha deciso il TAR che pur senza entrare nel merito della vicenda ha sospeso ogni giudizio fino al prossimo 7 aprile. Fino a quella data l'opera sorta per omaggiare il quindicenne ucciso durante un tentativo di rapina resterà dov'è sul muro di uno stabile di piazzetta parrocchiella ai quartieri spagnoli. In sostanza il TAR contraddice prefetto e procuratore generale che da settimane stanno sollecitando gli organi competenti a rimuovere i cosiddetti santuari della camorra. Ma mentre il murale che raffigurava il giovane Caiafa è stato prontamente cancellato il caso di Ugo Russo è destinato a rimanere ancora aperto. Il comitato verità e giustizia, sorto in difesa del quindicenne aveva presentato ricorso contro l'ordinanza del Comune di Napoli dello scorso 24 gennaio con cui si ordinava la rimozione. Ora i residenti dello stabile dove sorge il murale hanno ottenuto una sospensiva dalla quarta sezione del TAR della Campania. Mentre i giudici amministrativi si esprimevano sulla vicenda la Commissione Speciale Antica Morra della Regione si è riunita ed ha approvato all'unanimità una risoluzione promossa dal consigliere Borrelli con la quale si invitano le istituzioni ad attivare tutte le procedure atte a cancellare i murales e a smantellare gli altarini. Un messaggio di legalità dichiara il Presidente della Commissione Zinzi a cui seguiranno altre iniziative nei prossimi mesi. Intanto oggi pomeriggio la famiglia di Ugo insieme a cittadini intellettuali sfilerà per via Toledo per poi deporre un fascio di fiori in via Orsini dove il quindicenne fu ucciso esattamente un anno fa il primo marzo del 2020. La battuia dei deputati salernitani alla Camera è aumentata, infatti è pronta a fare il suo ingresso a Montecitorio Eva Avos, attualmente Vice Sindaco di Salerno in quest'ora infatti l'ex Ministro dell'Interno Marco Minniti ha annunciato le dimissioni irrevocabili dall'incarico andrà a guidare una fondazione di Leonardo che si occuperà dei rapporti tra Italia, Africa e Medio Oriente la scelta di Minniti riguarda direttamente la Campania l'ex guida del biminale del governo Gentiloni infatti nel 2018 è stato eletto nel collegio plurinominale Campania 2 quello di Salerno Scafati e Battipaglia nel listino del Partito Democratico subito dopo Minniti c'è proprio Eva Avossa il Vice Sindaco di Salerno dunque si appresta ad affiancare Piero De Luca fino ad ora unico esponente dem salernitano alla Camera dei Deputati e sono almeno 300 i professori e il personale del mondo della scuola che oggi riceveranno la prima dose del vaccino anti-covid a Benevento per la prima volta dosi somministrate anche in una scuola antica della città che già affrontò la catastrofica influenza spagnola sentiamo Non c'è tregua per il Salerno a causa delle vittime covid ancora un decesso nei reparti dedicati al coronavirus del Sampio di Benevento si tratta di una donna di Sant'Agata dei Goti intanto prosegue la campagna vaccinale da questa mattina e per tre giorni maxi operazione di Asle Scuole per somministrare centinaia e centinaia di dosi al personale del mondo della scuola da questa mattina per la prima volta nel Salerno e per la seconda in campagna una scuola ha aperto le porte sanitari che hanno vaccinato circa 200 persone L'istituto nostro è uno dei più antichi della nostra provincia del 1909 ha già vissuto questo periodo nella pandemia della spagnola quindi è il nostro dovere come istituzione scolastica dare la possibilità di una nuova rinascita di una nuova vita visto che con i giovani noi siamo abituati a traguardare le future generazioni quindi era diciamo normale per noi della scuola e del mondo scolastico dare una risposta a questa esigenza presente all'interno dell'inusuale ambulatorio la responsabile dell'unità operativa complessa di epidemiologia e prevenzione dell'Asla Anna Maria Citarella che oltre ad iniettare i vaccini ha spiegato ai docenti la peculiarità di AstraZeneca ed ha anche tranquillizzato su possibili effetti collaterali come l'insorgenza di qualche linea di febbre del tutto normale Clemente Mastella intanto sostiene la decisione del governatore De Luca di chiudere le scuole raccomando a tutti di aderire alle campagne di vaccinazione ed ora il covid di Nirpini al contagio di Laga soprattutto tra i giovani il sindaco di Mercogliano lancia un duro monito ai ragazzi e dice basta con le feste private intanto anche il Moscati di Avellino è pieno sentiamo preoccupa anche Nirpini al covid la terza ondata manda in affano soprattutto gli ospedali il covid ospita del Moscati di Avellino è di nuovo pieno tutti occupati 38 posti let destinati alla degenza ordinaria alla terapia subintensiva l'azienda ospedaliera di Contrada Moretta ha riconvertito ad aria covid anche l'unità operativa di malattie infettive 6 i pazienti ricoverati in terapia intensiva su 10 posti letto disponibili in tutto questo si cerca quanto possibile di contenere il contagio preoccupano soprattutto i cluster che stanno esplodendo tra i giovani il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio lancia un duro monito ai ragazzi basta con queste feste ignoranti basta con queste macellazioni del maiale sono veramente deluso da tutte quelle persone che non hanno rispettato le misure anti covid fino a una settimana fa avevamo zero contagi in una settimana abbiamo superato i 50 positivi se continuo in questi termini sicuramente prenderò dei provvedimenti seri intanto a differenza del resto della campagna dove c'è stato uno stop momentaneo in Irpini i vaccini non si fermano oggi sono arrivati quasi 2.900 dosi di AstraZeneca a 1.700 di Moderna e lunedì arriveranno quasi 5.000 fiale di Pfizer intanto ieri sono stati effettuati 1.144 vaccini tra ovvero 80 e personale scolastico non ci si ferma nemmeno nel weekend oggi sono partite le somministrazioni nel lab di Monteforto Irpino domani si parte anche a Mirabella e Clano il prefetto di Salerno spegne la movida nei comuni più grandi della provincia a vertice telematico per disporre controlli nei luoghi di aggregazione e provare a frenare l'avanzata del coronavirus sentiamo il servizio il prefetto di Salerno Francesco Russo ha organizzato un incontro in videoconferenza con i sindaci dei comuni più importanti della provincia obiettivo predisporre i controlli per bloccare la movida nel fine settimana a Salerno Enzo Napoli ha optato per la linea dura con restrizioni sia negli spostamenti che nelle occasioni di socializzazione l'arenile di Santa Teresa l'ho chiuso ho fatto un'ordinanza che vieta alla vendita di alcolici anche ai supermercati dopo le ore 18 tentando in questo modo di come dire mitigare per quanto possibile la spinta della trasgressione naturalmente non c'è esercito di marini di lagunari o di marziani che possano in qualche modo sopperire al deficit di coscienza personale ciascuno di noi è responsabile di se stesso e soprattutto è responsabile degli altri indipendentemente dall'età contestualmente il sindaco ha trasmesso all'asla le sedi per allestire quattro punti vaccinali nella città capoluogo il centro sociale in Pastena un edificio realizzato in materno con il piano delle periferie e il cinema augusteo stiamo verificando avevamo detto in un primo momento che potevano essere i salesiani ma lì ci sarebbero una serie di complicazioni risolvibili stiamo ripiegando su un'altra ipotesi progettuale sempre in zona Carmine un flash mob all'ospedale Landolfi di Solofra per chiedere di salvare l'ospedale della Concia sindacati dipendenti e il comitato locale insieme per salvaguardare un'eccellenza sanitaria del territorio che rischia la dismissione sentiamo chiarezza sul futuro dell'ospedale Landolfi non possiamo perdere un'eccellenza sanitaria del territorio CGL infermieri e comitato locale insieme per un flash mob davanti il presidio di Solofra non si può essere sballottati a destra e a sinistra come se fossimo dei burattini perché questo siamo stati in questo periodo da quando ci hanno ceduto all'azienda Moscati siamo stati dei burattini con ordini di servizio avanti e indietro queste situazioni che diciamo sono deleterie per le persone che ci hanno lavorato hanno dato il cuore l'anima in tutti questi anni Il Landolfi da ieri sera è tornato a Covid Hospital con il ricovero di due pazienti positivi ma restano tanti dubbi sulla sua sopravvivenza nel mirino il management dell'azienda Moscati che sostengono i manifestanti avrebbe un progetto di dismissione della struttura chiediamo il rispetto del decreto 29 il famoso decreto 29 della regione Campania per cui questo presidio ospedaliero deve diventare assolutamente un presidio di rilievo nazionale così come è previsto nel progetto sono stati stanziati dei fondi circa 8 milioni di euro per quanto riguarda l'adeguamento normativo e funzionale di tutti i reparti dell'Andolfi nel piano di investimento di Lennaro sono stati previsti circa 87 mila euro per l'adeguamento del pronto soccorso e vi è un'ordinanza della giunta regionale della Campania che prevede circa 500 mila euro per i quattro posti di terapia intensiva presente anche il sindaco Vignola è una delegazione della FIOM ci sono lavoratori manutentori metalmeccanici qui nell'ospedale di Solofra non si tratta di una solidarietà ma si tratta di una partecipazione attiva a questo sitino a Benevento da oggi i certificati anagrafici potranno essere rilasciati presso le tabaccherie questa mattina all'inaugurazione del servizio da oggi a Benevento i certificati anagrafici potranno essere rilasciati dalle tabaccherie un'innovazione frutto dell'accordo tra il comune e la federazione italiana tabaccai il servizio partireà in via sperimentale presso 10 tabaccherie poi successivamente sarà esteso a tutte le tabaccherie quindi costruiremo una vera e propria rete un nuovo modello di semplificazione amministrativa illustrato questa mattina nella tabaccheria nei pressi di piazza Santa Sofia niente più code agli sportelli tempi più rapidi orari più flessibili sette giorni su sette le persone avranno la possibilità di farsi rilasciare un certificato un progetto che permetterà di accedere ai certificati da tutta Italia e i certificati potranno anche essere rilasciati su base nazionale quindi un cittadino non lo so di Ferrara si trova qui nella nostra città e potrà richiedere l'estrazione del proprio certificato una innovazione che vede Benevento tra le prime città in regione Campania la prima sì sì diciamo siamo molto orgogliosi di questo nel senso un servizio di qualità che viene offerto alla cittadinanza questo è l'avvio di un percorso ci poterà l'abbenamento digitale per cui con la semplice app di riferimento app io si chiamerà si potrà tutti quanti collegare quando sarà da settembre in poi ricevi l'app quindi il certificato o quanto altro rompire a posto vizioso burocratico a volte inattivo anche dei comuni o del comune ma in questo caso una partecipazione più attenta alle ragioni del cittadino una chiazza marrone nelle scorse ore ha invaso parte delle acque antistanti lungomare di Salerno la denuncia del consigliere comunale Gian Paolo Lambiase che ha chiesto l'intervento del comune scoperti scarichi legali anche a Capaccio Pestum il campanello d'allarme è suonato nei giorni scorsi quando una chiazza di colore marrone ha inondato parte delle acque antistanti lungomare di Salerno un fenomeno che ha spinto il consigliere comunale Gian Paolo Lambiase ad effettuare un sopralluogo in via Moscato per verificare lo stato in cui versa il fiume Rafastia nella parte alta il fiume ieri scorreva con abbondanza di cemento all'interno delle acque tra l'altro hanno mandato delle foto su Facebook dove si vede come quest'acqua grigia gialla grigia scorreva direttamente a mare criticità ambientali che si aggiungono a quelle già denunciate in passato a pochi metri di distanza infatti nei pressi della spiaggia di Santa Teresa si sono verificati diversi fenomeni sospetti dall'acqua russa in corrispondenza dello sbocco del torrente Fusandola alle acque nere poco più avanti spero che ci si attivi presto per capire quali sono le cause di questi sversamenti che sicuramente non fanno bene al mare alla città il turismo forse era uno dei settori da valorizzare in modo particolare con un mare sporco inquinato sicuramente Salerno non potrà diventare non potrà rimanere città turistica ma l'emergenza ambientale purtroppo riguarda tutta la provincia a Capaccio Pessum si sono verificati diversi sversamenti abusivi in mare ma il sindaco Franco Alfieri ha fatto sapere che la polizia locale ha individuato l'origine del problema una fondazione per il teatro comunale l'idea di Filippo Gigante è compositore direttore d'orchestra e direttore artistico dell'Accademia di Santa Sofia espressa in una lettera aperta al sindaco di Benevento Clemente Mastella per l'ormai prossima riapertura del teatro comunale Zigante Candida all'Accademia di Santa Sofia come soggetto promotore per la costituzione di una fondazione aperta a enti istituzionali e operatori del settore finalizzata la gestione del Vittorio Emanuele il nostro obiettivo scrive e far fiorire un importante centro culturale orientato verso una dimensione artistica partecipata in grado di attrarre aggregare e valorizzare eccellenza cittadini afferenti ai diversi ambiti musica teatro danza arte figurative letteratura una scuola così organizzata conclude rappresenterebbe un'eccellenza con pochi termini di paragone nel sud Italia preziosa per lo sviluppo dei talenti locali e altamente attrattiva a livello regionale ed extra regionale un carro cerimoniale portato alla luce negli scavi di Civita Giuliana Pompei continua a riservare straordinarie sorprese agli archeologi il reperto è un unicum nel panorama storico italiano come ha sottolineato l'ex direttore Massimo Sanna un carro con decorazioni di bronzo e stagno con elementi in ferro e resti delle corde utilizzate per trainarlo Pompei continua a stupire e a riservare sorprese dallo scavo di Civita Giuliana è stato portato alla luce un grande pilentum cerimoniale gli scavi dell'area nord della città sepolta dal Vesuvio sono frutto di un protocollo di intesa sottoscritto nel 2019 con la procura di Torre Annunziata per contrastare i tombaroli e proprio il procuratore non seo fraiasso ha sottolineato l'attenzione della magistratura per frenare il saccheggio del sito archeologico più importante del mondo l'intesa tra procura e parco archeologico è uno strumento formidabile non solo per recuperare reperti di eccezionale valore ma anche per contrastare le attività criminali ha aggiunto fraiasso la scoperta del carro è stata salutata così dal ministro della cultura Dario Franceschini Pompei continua a stupire per le sue scoperte sarà così ancora per molti anni con 20 ettari ancora da scavare ma soprattutto dimostra che si può fare valorizzazione ci possono attraire turisti a tutto il mondo e contemporaneamente si può fare ricerca formazione studi e un giovane direttore come Sud Friegel valorizzerà questo impegno e di scoperta straordinaria parla anche Massimo Zanna direttore uscente del parco archeologico di Pompei il carro era probabilmente usato per accompagnare i momenti festivi della comunità e rappresenta un unicum nella storia archeologica d'Italia è tutto con il nostro TG grazie di averci seguito vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti